Sono stati 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 scopati di scegliere E' un'altra parte che ci dice Beh, ovviamente, non c'è il mio Ma non c'è il mio Ma non c'è qualcosa C'è qualcosa che abbiamo E' un'altra parte 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 Oh 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 Oh, 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 oh. non è che mi sto mettendo lì a guardare dove sto riprendendo l'anno scorso l'ho venuto decentemente siamo anche un po' vicini quindi non vedo bene in prospettiva c'è un po' vicino Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia che puzza Buon odore di fuori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti